L'inchiesta sulle false candidature nella lista Napoli-Vale a sostegno della candidata PD Valeria Valente nelle ultime amministrative ha visto sfilare in procura oggi altre due esponenti del partito campano. Stamattina alle 10 e mezza è arrivato Gennaro Mola, il compagno della candidata sindaca indagato per violazione della legge elettorale. Poi intorno alle 17.30 il capogruppo regionale del partito Mario Casillo sentito come testimone. Il nome di Mola è stato tirato in ballo dal consigliere comunale del PD Salvatore Madonna indagato quest'ultimo per aver autenticato nove firme di candidati a loro insaputa. L'elenco glielo avrebbe fornito Gennaro Mola secondo le dichiarazioni del consigliere indagato essendo anche il coordinatore della campagna elettorale. Dopo il suo interrogatorio la scorsa settimana i magistrati che conducono l'inchiesta Alfonso Davino e Stefania Buda hanno deciso di convocare come teste la stessa Valeria Valente che ha dichiarato di essere vittima in questa vicenda ma la sua versione non avrebbe convinto gli inquirenti che vogliono far luce sulle dichiarazioni del principale indagato il consigliere Madonna per cui hanno convocato il compagno della deputata del PD Mola sentito non più come persona informata dei fatti ma come indagato. Accompagnato dal suo avvocato Bruno Fonax l'ex assessore della giunta Iavolino è stato ascoltato per cinque ore dal pubblico ministero. Non ha confermato la versione del suo accusatore sostenendo di non aver fornito nessun elenco di nomi falsi di candidati da autenticare. Perché farlo? Non ci sono motivi di carattere economico né politico così si è difeso davanti al magistrato. Ho cercato di dimostrare la mia totale stranetà, queste falsificazioni tutte da dimostrare, ho cercato di spiegare che non c'è nessun collegamento tra contributi e finanziamenti vari e le liste così come ho potuto dimostrare che il nostro interesse era perfettamente contrario a quello che è il risultato perché noi avevamo interesse a mettere in lista gente che portasse voti, ci siamo trovati purtroppo con dei candidati che hanno portato a zero. Perché non c'era nessun interesse da parte della Valente né del centro-sinistra né della lista singola a fare un'operazione di questo tipo. Ha parlato di possibile errore materiale nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle liste motivando l'impossibilità di un ritorno economico con il fatto che non si percepiscono contributi a seconda del numero dei candidati e anche sul fronte politico ha spiegato che avrebbe potuto rappresentare solo un danno determinando le dimissioni della Valente nell'eventualità che fosse stata eletta e che l'inserimento dei nove nomi risultati irregolari non sarebbe servito al raggiungimento del numero minimo dei candidati da presentare in lista già raggiunto.